Da autore del libro a protagonista del film Sì, è stata dura, nel senso che intanto il libro è leggermente diverso perché è ambientato in una casa invece pensare nel momento in cui scrivevo il soggetto ad ambientare un documentario e un film all'interno di una casa gli spazi erano un pochettino ristretti, invece questa idea un po' della sfida con il senatore di girare l'Italia per le buone pratiche ha consentito davvero di allargare banalmente lo scenario di sviluppo del concetto e di andare a vedere le amministrazioni che fanno delle ottime cose quindi amministrazioni veramente virtuose, come dico nel film, da copiare devo dire, spero che la cosa funzioni, nel senso che mi pare di essere riuscito a trasmettere comunque il concetto del libro al video Ecco, quali sono i prossimi appuntamenti e per il libro e per il docufilm? Il libro sta continuando, devo dire, a girare parecchio io con un po' di difficoltà ma rispondo alle varie presentazioni ormai sono oltre 120 in un anno in tutta Italia però ancora settimanalmente, per la prossima settimana ne ho due organizzate quella dopo un'altra ancora in Piemonte e in Lombardia il film invece avrà ancora due anteprime diciamo a porte chiuse una a dicembre e una a gennaio una a dicembre a Torino organizzato con la regione Piemonte Film Commission che ha sostenuto la realizzazione una a Milano grazie all'editore Edizione Ambiente con il Comune e poi uscirà nelle sale in distribuzione diciamo a fine gennaio con target principale diciamo le scuole grazie all'amministrazione con proiezioni per gli studenti Ecco, c'è una visione in questo docufilm diversa della Campania, non la solita è stato voluto? Sì, la risposta secca perché come dico all'inizio c'è un'Italia che funziona e andrebbe copiata e quell'Italia che funziona non è il solito slogan che peraltro da un punto di vista scrittente è statistico e vero, cioè l'Italia dalle tre velocità, nord, centro e sud ma c'è un'Italia che funziona anche laddove la media dice che sembrerebbe non funzionare in Campania, in provincia di Salerno ma anche in provincia di Napoli attorno al Vesuvio ci sono ormai decine e decine di comuni con performance straordinarie sia nella produzione complessiva dei rifiuti, cioè lì hanno ridotti sia con le raccolte differenziate che superano il 65-70% e quale testimonianza migliore ad andare a cercare laddove è necessario in qualche modo dare un colpo di acceleratore per far sì che le cose funzionino perché il rischio è di portare un esempio che poi non sia credibile dice al nord funziona ma al sud no, ci sono esperienze al sud non siamo potuti andare anche in Sicilia ma in provincia di Trapani ce ne sono in Puglia ce ne sono, ormai in ogni regione ci sono delle buone pratiche basta copiarle